sorriso per la giuria per poi ritornare subito focalizzata sul suo esercizio chi verticale piantata Kaciov stellare pack Stalder un giro piantata sciapo grande adesso torna giù no non è vero Kaciov grandissima adesso torna giù con Tarzan in verticale leggermente persa la schiena ma poi grande recupero piantata fioretto stacco piantata con un giro fioretto stacco no 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 brava controlla la verticale ha perso un attimo sulla zona lombare cambio petto in cubitale cubitale con mezzo giro si prepara per l'uscita un mezzo giro doppio avanti con un piccolo passetto però vabbè anche qua non abbiamo dubbi su chi vincerà questo triello spettacıyla Sutton che si chiama davvero piccolo papi fai vi